Allora, il mio primo atto creativo sicuramente non me lo ricordo, ti posso dire quello che mi ricordo, più che altro per l'eco che ha generato negli altri e ci sta un foglio tuttora costruito gelosamente da mia madre, scritto a macchina, perché mio papà faceva la specializzazione di medicina e usava una macchina da scrivere che lasciava su una scrivania, io avevo 9 anni credo, 8-9 anni, 9 anni, vedi questa, in realtà poi se avevo 8-9 anni ce n'è un altro ancora prima, vabbè intanto ti dico questo, vedi questa macchina da scrivere, questo me lo ricordo, ecco quell'altro non me lo ricordo, questo me lo ricordo, vedi questa macchina da scrivere e fui preso da una specie di raptus, invasato proprio, mi lanciai sulla macchina da scrivere, misi un foglio e cominciai a scrivere e schessi un testo in cui, apocalittico, in cui c'era il ricordo solo, dovrei rileggerlo, in cui la gente si faceva pellicce di pelle umana, un testo apocalittico mostruoso che poi i miei genitori tutti felici andavano in giro mostrando perché c'aveva una proprietà di italiano straordinaria per un bambino dell'epoca, però il contenuto era veramente tremendo, però al di là di questo era una fantasia creativa, veramente anche io rileggendolo mi ricordo che notai che era una fantasia creativa fuori dal comune, con accostamenti di immagini veramente strani e questo mi ricordo che fu un atto da invasato, mi ricordo io che vedo la macchina da scrivere, mi lancio sulla macchina da scrivere, metto il foglio e comincio a scrivere, comincio a piggiare sti tasti, un bambino di 8-9 anni e l'altro in realtà che è stato fatto a 8 anni è un anticipo di quello che poi ho sempre fatto, curiosamente, io ho fatto a 8 anni una finta intervista al microfono in cui facevo finta di essere un conduttore radio televisivo che veniva attaccato dagli extraterrestri in diretta e moriva in diretta e ci sta sta registrazione tutt'ora in cassetta, alla Wells senza saperlo, capito? In cui c'è proprio questi, che succede? Invadono la terra e muoio al microfono, sto ragazzino di 8 anni invasato che muore al microfono, questi sono quelli che mi ricordo, uno è registrato quindi è dato di fatto e l'altro c'è il foglio, col foglio scritto e questo è il mio ultimo atto, lo credo. Ecco, lo dà, il gatto è l'artistica attuale. Il primo riconoscimento generato da una cosa artistica, allora te ne posso dire, uno che non è un riconoscimento ma lo è stato, lo è ma non lo è stato a livello ufficiale che prima di entrare in accademia, per capire, dato tutte le difficoltà che mi facevano i miei genitori, io di nascosto per capire se effettivamente aveva senso questa scelta così difficile, no prima di entrare in accademia, prima di iniziare il percorso d'attore, fece un laboratorio con una tale Sarina Aletta, un'attrice, all'università, al teatro, alla sala del Civis Eduardo De Filippo, quella che sta proprio vicino allo stadio olimpico e la prima cosa lei ci diede un testo, c'era un testo che aveva due personaggi, io lo studiai per conto mio facendo tutti i tuoi personaggi schizofrenici, mi giravo e mi rigiravo, stavo di spalle ed era un personaggio, mi rigiravo ed era un altro personaggio, lo andai e io feci il corso proprio per mettermi alla prova, quando fu il momento di ok Antonio hai preparato la tua cosa? Sì sì, salì, è un corso amatoriale calcola, io ho fatto questa cosa e mi ricordo che quando ho finito mi sono girato e c'erano 15 persone, così è, e anche l'insegnante così con gli occhi sbarrati e poi sono partiti gli applausi, dopo di che quello è stato il mio primo riconoscimento, perché è veramente un riconoscimento, io ho riconosciuto attraverso la reazione di quelle persone che evidentemente c'era qualcosa, aveva un senso quel percorso, sempre, perché io mi riconosco nella creatività, io sono la creatività, non è che è un accessorio di me, per cui io, come dirti, la creatività è sempre stato il mezzo in cui io mi presentavo agli altri, ma poi non so che voglia dire creatività, nel senso che tutti dovrebbero essere creativi, per cui è ovvio, come fai a non presentarti a un'altra persona se non tramite la creatività, solo quando gli dici usciamo stasera, dove andiamo? e ci pensi, stai creando il luogo dove avrai la storia con quella persona, capisci? E' ovvio, tu forse intendevi più che altro l'artisticità, il mio ruolo di regista, attore e quant'altro, no, devo dire che invece molte donne, nel caso specifico, si sono interessate a me sedotte dal mio ruolo sul palcoscenico, come un classico che succede, o il palcoscenico o anche volte regista, ma generalmente questo non ha generato risposte particolari in me, tranne una volta, una volta come una donna mi ha rapito per 20 giorni dopo che mi aveva visto su un palcoscenico, io mi sono fatto rapire perché mi interessava, però servirmene in questo senso del ruolo artistico, attoriale, registico, no, in quel senso no, no, il palaggio proprio no, semmai sono stato accusato di corruzione, nel senso, ma non corruzione di persone, corruzione di un testo, perché una volta portai al teatro Donizzetti, avemmo un contatto per cui portammo un testo che si chiama La grande e la piccola morte, di tale Elena Bono, che era un testo poetico, drammatico, poetico su Giovanna d'Arco, in realtà era pieno di monologhi infiniti, io andavo a teatro, era una delle prime cose che facevano con la comunità, l'ho massacrato e riscritto, devi vedere il tipo che ci ha fatto il contatto, che conosceva molto bene quel testo, quando ha visto quello che avevo fatto di quel testo, mi ha cancellato da qualsiasi lista possibile e potenziale per rientrare al teatro Donizzetti, da quel momento in avanti fino al 3050, però il pubblico di Donizzetti era invisibilio, questo è stato il metro, se vuoi, di tutto quello che mi è successo da sempre in seguito, il pubblico che ti sei è e istituzioni che non capiscono assolutamente nulla di quello che tu stai facendo, però si rende molto il discorso della ricompensa, perché mi piace questa idea del fuorileggere, catturatelo e vi ricompenseremo. La prima volta che stavo a compenso, vabbè, io sono partito pagato, perché avendo fatto l'accademia, le prime cose che ho fatto le ho fatte sempre pagate, non è mai stato un problema di partenza, semmai io sono fatto il percorso inverso di quelli che per esempio studiano una struttura del genere, perché sono passato dalle schifezze pagate, a fare delle cose belle, magari non pagate, cioè proprio per scelta, qualche volta è capitato che si riuscivano a fare delle cose belle pagate, però piuttosto raramente. La più lacerante è stata fare il percorso artistico, perché con un padre medico primario è una madre bilaureata, pedagogista e insegnante di lettere, era visto come il demonio questa cosa qua, quindi io ho fatto l'esame di nascosto in accademia e solo quando l'ho passato dopo l'ho detto, quindi mi sono preparato di nascosto, ho fatto l'esame di nascosto, ho fatto tutto di nascosto e questo per un ragazzo di 18-19 anni è una cosa molto forte, ho addirittura finto di fare un esame di ingegneria, io avevo scritto ingegneria e quindi volevano sapere come proseguire il mio percorso e mi inventai degli esami letteralmente, poi siccome ero una persona molto affidabile da un punto di vista scolastico, nessuno mise in dubbio questa cosa, mai possibile, però questo penso che sia la cosa più importante, poi un'altra che ti posso dire molto importante e su cui rifletto tante volte è quella che feci con Ellen Stewart, perché Ellen Stewart, tu la ricordi, la conosci? È la fondatrice della Mamma, il teatro Mamma che sta a New York, grossissima mecenate mondiale del teatro, ha ospitato dal living, ha ospitato il living, ha ospitato il… e c'è questo la Mamma Center di Spoleto dove sono andati loro a fare… e mi ricordo che lei mi adorava tantissimo, mi teneva in palma di mano, però non aveva mai visto il lavoro di performazione con Ossein e non era un artista, non era un artista, lei era proprio una mecenata, lei era una stilista di costumi che poi si era improvvisata e amava, aveva 60-70 anni, amava proprio fare la mamma di tutti questi artisti, però come tutte queste persone pretendeva che tu o la prendessi per il culo facendo finta di seguire quello che lei ti diceva o lo facessi proprio, o seguissi quello che lei ti diceva. In effetti aveva una grande conoscenza e cultura del teatro d'avanguardia perché l'aveva visto tutto, però non ne conosceva la natura intima, profonda. Quando facevamo questa performazione davanti a lei, a lei non piacque perché la trovò troppo vaporosa, senza punti di riferimento testuali, lei mi disse preferirei che ci fossero dei punti di riferimento dei paletti attraverso i quali passare e io mi ricordo che la guardai gli dissi no, perché la forza di questo lavoro è proprio nel fatto di essere completamente slegato da questo. Se tu ci metti dei paletti è il lavoro che più o meno, c'erano altri lì che facevano cose del genere, è il lavoro che fanno anche gli altri, invece la forza di questo lavoro è proprio che tu vai senza avere niente in scena. E fu chiaro che rispondendogli così avrei perso qualsiasi tipo di possibilità anche con Anne Stewart e quindi con New York, e quindi con il teatro La Mama e quindi con tutta una serie di cose. E lo feci, ero ben consapevole del fatto che lo stavo facendo. Poi devo dire la verità, c'è un altro dettaglio, perché a lei non gli stava simpatico Seine, aveva qualcosa di anti… lei proprio gli arabi, non tollerava tutti quelli che avevano delle… c'era una roba di pelle pazzesca con Seine, di fastidio proprio, gigantesco. E io non potevo accettare questa cosa. Seine era il compagno di lavoro con cui io creavo quelle cose… non esiste… Una biura… Esattamente… Sempre, in continuazione, io mi annoio di me stesso in una maniera mostruosa… Quella più clamorosa che ti ricordi? Il mio rapporto con la poesia, perché è andata a ondate. Dall'Accademia, un po' di anni dopo l'Accademia, tre, quattro, cinque anni, non ho voluto leggere poesia perché non ritenevo di aver trovato un modo degno di leggere tendo a voce alta. Dopodiché, quando trovai un modo degno, apparve da solo mentre mi ci rimisi sopra e apparve, l'ho frequentato tantissimo fino a stomacarmene e l'ho smesso di nuovo e quindi ho smesso di nuovo di… E tuttora credo di stare in questa dismissione perché è parecchio che io non faccio letture le poetiche. Tuttora credo di stare in questa dismissione. Io mi annoio di me stesso tantissimo, ma proprio tanto. Dopo un po' mi annoio. Non ho questo coraggio veramente ammirevole che hanno avuto personaggi come Carmelo Bene, che si inchiodavano su una modalità pur fatta alla grande. Stiamo parlando di una persona che quando faceva, faceva perché sentiva. però si erano trovati sta modalità, sta voce, sta modalità e brum ci andavano dentro. Io dopo un po' che sento una modalità proprio mi annoio, mi innervosisco, non ce la faccio più. Questa è una domanda che risente di un sacco di casino perché è evento artistico. Ma cosa hai fatto fare la faccia da bambino, tanto per usare i nostri linguaggi? Ma la faccio in continuazione, questo è il fatto, per questo ti dico che non so bene cosa dirti come evento artistico perché non ho dei ricordi particolari. Se mi sale su un ricordo non c'entra niente con il passato, ma anzi è a metà perché penso che risalga tipo a cinque, quattro anni fa. Quattro anni fa ho portato mia figlia al circo e ho voluto prendergli i primi posti, il circo di Nandorfei, i primi posti, proprio i primi posti, quelli che stanno proprio a ridosso dell'arena di sabbia e a un certo punto hanno montato, hanno calato le sbarre, hanno montato proprio la gabbia perché era il momento del domatore, quindi hanno montato questa gabbia e calcola che è come da me a te, hanno montato le sbarre della gabbia dove ero seduto io, stavano lì, le sbarre della gabbia e a un certo punto, grande annuncio eccetera così, sono entrate le tigri, è entrata una tigra sparata boom verso di noi così con gli occhi di fuoco e si aggirava, credimi vedere quella tigre così a un metro piena di questo fuoco, un evento no artistico del più, non me lo dimenticherò mai, cioè veramente era, sai Blake ha scritto una poesia che si chiama Tiger, Tiger burning bright in the forest of the night e dice proprio questa tigre che è come illuminata, che brucia e ti giuro che quanto è vero quando ne vedi una, una non sonnolenta ma proprio è bellissima, bellissima, queste strisce, capito, arancio nero e questi occhi, capito, dilatati con sta fessura e sta bocca che si allarga con i denti zannuti e l'energia che esprime, cioè mi è arrivata una ondata di energia che è un trip, cioè veramente come se mi fossi sparato una cosa, è stata un'emozione, tornerei al circo solo per vivere questa emozione, se uno mi dicesse guarda ci stanno le tigre e ti puoi mettere vicino alle tigre, io tornerai solo per quello, ma io penso di essere un po' carente su questo, nel senso che veramente non ho mai, mai, mai provato attrazione per la politica, ho sempre visto fin da quando stavo al liceo, le persone che facevano attivismo politico, io ne vedevo accanto all'attivismo politico tutte le false ragioni e perciò non sono mai stato invogliato, non ho mai incontrato un attivista politico che mi abbia fatto sentire veramente che lui ne aveva bisogno, perché era vero, perché era necessario per il mondo, che lui ci credeva sul serio, invece mi correggo, tutti ne avevano bisogno, ma ne avevano bisogno per motivi assolutamente psicologici e personali, per cui mi ha sempre disgustato moltissimo questa cosa, in particolare con la sinistra devo dire la verità, non per altro, ma perché quella è quella che ho frequentato, perché stava al primo signore dove ero io liceo, c'era tutta l'autonomia operaia, quindi vedevo il ragazzetto incazzato col padre e con la madre che approfittava della sinistra per scagliarsi contro l'autorità e lo leggevo tutto con una limpidezza, per cui mi faceva assolutamente schifo, o pietà o schifo e non mi è mai venuta voglia di coinvolgermi niente, di contro la mia politica è quella del difendere il diritto ovunque, a costo della mia pelle e questo l'ho fatto sempre, la mia politica è quella che se io passo per strada e vedo una persona che sta in difficoltà, non me ne frega un cazzo di chi è, com'è, chi altro c'è, scendo e vado, sempre questo è stato. Come questo si traduce in relazione con le istituzioni civili, ma sai le mie relazioni sono sempre state mediate dal fatto che c'era questa mia posizione assolutamente estromessa artistica, io cercavo solo qualcuno con cui dialogare, è ovvio che se tu mi chiedi in astratto c'è un ideale politico con cui ti riconosci? Io ti dico precisamente no, però se dovessi dire che cosa sono sono un socialista, politica, è ovvio questo, sicuramente non ho nessun tipo di… però ho anche un rispetto enorme per la libertà, tante volte mi sono chiesto se non si starebbe meglio in una società dove magari ti devi difendere dai briganti che ti attaccano, però hai la libertà di costruire una baracca e vendi limoni, piuttosto che stare in una società dove i briganti non ti attaccano, però prima di aprire una baracca per vendere i limoni devi dare il culo a destra e a sinistra, voglio dire, mi sono domandato tante volte questa relazione tra protezione che è la natura della politica e del sociale, protezione del gruppo sociale e libertà, perché la libertà porta che… c'è la libertà anche che qualcuno ti ammazzi, parliamoci chiaro, io per andare a Palombara adesso faccio mezz'ora di strada tranquillo, se fossimo nel coso ci avrei assalti dei credoni ogni 100 metri, quindi dovrei essere bravo a difendermi, dovrei viaggiare in una certa maniera, forse non potrei vivere a Palombara, ci sono tante cose, però allo stesso tempo certe volte è veramente sfiaccante in paesi come l'Italia il fatto sociale, quindi la difesa, lo stato sociale si è diventato la privazione dell'aria, non c'è più… e quel motivo per cui vince gente come Berlusconi è questo, perché quando lui dice io vi darò la libertà di fare tutto quello che cazzo vi pare, la gente fa… capito? Poi ovviamente bisognerebbe ragionarci sopra, però in realtà c'è una mancanza, un'assenza di libertà, quando io lavoro con i ragazzini, con i ragazzi, gli adolescenti, la cosa più triste da sentire è che loro ti dicono cosa farai nella vita, non lo so, ti guardano terrorizzati e poi forse farò, mio papà fa questo e io farò quello, ma no perché gli piace, perché si sentono che non è possibile fare altrimenti, perché l'unico modo è quello di avere qualcuno che ti protegge, se tu hai un'idea diversa da fare per conto tuo è praticamente impossibile che tu la fai, questo per un paese secondo me è la morte, quindi poi dal punto di vista politico dichiaratamente io l'unico gruppo politico che attualmente rispetto sono i radicali, politici? Artisticamente sì, totalmente, potrei morire oggi, da un punto di vista dell'ovvio desiderio che penso sia naturale per un artista di avere più persone che entrano in contatto con quello che fanno? Assolutamente no, è ovvio che io desidererei, questo lo ripeto in continuazione, poter prendere il telefono, alzare il telefono e dire cara Bjork, mi interessa il lavoro che fai, perché non facciamo una cosa insieme? Questo per le scelte che ho fatto mi è negato, nel senso che al 99%, non ci ho provato devo dire la verità, però al 99% mi sarà piuttosto difficile contattare Bjork per un lavoro e questa è l'insoddisfazione che io ho, per il resto potrei morire oggi, da un punto di vista oggettivo veramente penso di, addirittura se vedo proprio, proprio recentemente riflettevo, comunque insomma si può dire che io ho strutturato insieme, con l'aiuto di Hussain, però è una cosa che parte proprio da me, anche prima di Hussain, questa storia della performazione, della cosa è un dato di fatto enorme, comunque è enorme, se uno lo volesse essere oggettivo lo dovrebbe scrivere nei manuali della storia del teatro, perché è un dato di fatto, è un passo in avanti e secondo me rappresenta il futuro dell'arte teatrale, cioè è molto probabile che, ammesso anche che si esaurisca con noi, rinascerà dopo di noi e sarà il futuro dell'arte teatrale, se ci sarà un futuro per l'umanità, ovviamente. Nome? Io? Antonio Villo Canella. Età? Questo è un po' tipo arresto, età 42 anni. Professione? Non ne ho. Grazie a Dio. Un personaggio che in un certo senso ha influito enormemente nella tua vita. Dio? No, è vero, però… vuoi trovare uno umano? Il mio… il supplente di educazione tecnica al liceo, che era un pazzo che bladerava di fisica quantistica e ci portava a fare le processioni in giro per il liceo, mentre parlava di quanti. Si chiamava Pizzi. Mi sarebbe tanto piaciuto rincontrarlo. Era un pazzo dissociato totale. Mi ha ispirato tutto quello che poi è avvenuto dopo. Se parlavi di fisica quantistica, quando tu facevi le medie era veramente… Facevo il liceo. Liceo? Facevo il liceo. E lui era uguale? Sì, quarto, terzo, quarto liceo. Lui fece il supplente per un anno ed era un pazzo. Era veramente una persona notevole. Sì, assolutamente sì. Se non pensassi questo, questo posto non esisterebbe. Questo posto esiste perché io continuo a credere fermamente in questa possibilità. Se fosse solo un posto dove fare le mie paranoie artistiche sarebbe una cantina buia, larga 4 metri per 5. Questo luogo qua invece vuole essere questo. Continuamente lotto con le persone e con me stesso per riuscire a mantenere quell'ottimismo che ci vuole per credere questo. Continuamente combatto, mi indigno, tu sei testimone oggi di una cosa di questo genere. Perché si ritorni a dare valore a certi valori come la lealtà, come la responsabilità e l'onestà. che sembra che... Evidentemente sono un po'... Non lo so... Non so perché sembra che siano un po' falsi. Cioè poi la gente si commuove quando vede i film sugli eroi. Però pensare di fare l'eroe proprio sembra che sia fuori dalla... Invece io sono convinto che proprio... La chiave è proprio quello di essere eroici. Addirittura mitici. Cioè se uno si mette in testa che può essere un eroe, un mito... Non un mitomane, un mito. Cioè veramente un... Trascendere se stesso... In realtà diventerebbe una persona amabile, amorevole. Perché per essere amabile e amorevole bisogna essere eroici. Questo è il...